Messina è la prima città metropolitana della Sicilia per la raccolta differenziata, attestandosi al 23,70%, seguono Catania al 12,6% e Palermo al 19%. A dichiararlo è il presidente di Messina Servizi Bene Comune Giuseppe Lombardo, che spera di raggiungere al più presso il 65%, soprattutto con l'avvio della campagna Porta a Porta a partire dalla fine del mese. Intanto prosegue a ritmi spediti la consegna dei kit per i condomini nella zona sud per il Porta a Porta, insieme al Vade Mecum sulla raccolta differenziata e al calendario per ogni residente per informare e coinvolgere i cittadini sul servizio. Siamo certi, è dichiarato Lombardo, che i cittadini messinesi sapranno affrontare questa nuova sfida, considerandola un'opportunità importante per la città, che sarà così più pulita, ecosostenibile e rispetterà l'ambiente. E proprio nell'ottica di una città più pulita, il primo cittadino De Luca ha firmato un decreto sindacale con il quale si ordina agli amministratori di condominio di provvedere alla rimozione, entro 15 giorni della pubblicazione e dell'ordinanza, delle cassette per i volantini pubblicitari collocate all'esterno degli edifici. Ai cittadini e agli utenti viene chiesto poi di conferire, nei luoghi e nei modi consentiti per la raccolta differenziata, i volantini ricevuti in brevi mano o presi dalle stesse cassette. I trasgressori saranno soggetti al pagamento delle sanzioni pecunarie. La Messina Servizi, che nei giorni scorsi è stata dotata di spazzatrici meccanizzate per la pulizia dei marciapiedi, dovrà infine avviare con urgenza la polizia straordinaria delle porzioni di spiagge non ancora pulite.